Vivo prima, Avellino poi. Sulla strada del Bari due trasferte fondamentali per il futuro dei Biancorossi, che si giocheranno molto in ottica secondo posto. Rieciuffata la terza piazza, grazie al pareggio tra Turris e Catanzaro, il mirino ora dei Biancorossi è sul secondo posto occupato dagli Irpini e che dista sei lunghezze. Lo scontro diretto del 10 aprile al partegno Lombardi di Avellino diventa uno snodo importante, ma prima c'è l'ostica trasferta del razza di Vivo Valencia, gara a cui non parteciperanno per squalifica né Derisio né Cianci. Entrambi erano in diffida e sono stati ammuniti nella sfida contro la Paganese di sabato scorso. I calabresi arrivano dall'importante vittoria contro il Teramo, che ha consentito di fare un passo importante verso la salvezza, ma che certo non ha risolto i problemi della Vibonese. Come potrebbe ovviare il Bari alle assenze? Intanto torna Maita dal primo minuto, dunque potrebbe essere lui da affiancare bianco in mezzo al campo, con Mercurio confermato sulla tre quarti. Per la maglia dal primo minuto alle spalle di Antenucci spinge Eugenio Dursi, fresco di rete, la sua settima in campionato contro la Paganese. A completare il tridente ci dovrebbe essere Manuel Marras a discapito di Rolando, che potrebbe sedersi dunque in panchina, ma sono soltanto ipotesi in una settimana di lavoro, che comincia in vista di sabato con un orecchio, ovviamente a ciò che farà l'Avellino sul terreno della Ternana.